In questo video vediamo la macchina fotografica degli albori della fotografia digitale, è una Fujifilm A202, potete vedere ha una risoluzione di 2 megapixel, flash incorporato e andiamo a vedere un attimo il funzionamento. Innanzitutto ha due pile stilo, purtroppo la mia macchina fotografica ha fatto della ruggine, però è funzionante e la scheda, potete vedere, è la seguente, io sto usando una Fujifilm XD da 1 gigabyte, quindi non è la classica SD. Una volta messo vediamo come funziona, innanzitutto sopra c'è l'accensione on off, potete osservare ed inoltre altre modalità, come rivedere i filmati o le foto, la modalità video e la modalità fotografia. La vado ad accendere, vedete mi dice di inserire data e ora e via dicendo. Io salto questo passaggio e vado a fare le foto, sentite ha scattato, stanno dando un po' di problemi, sicuramente è datata, andiamo a vedere un attimo, questo è il video, mi dà la possibilità di settare o 320x240 o 160x120, certo non è la risoluzione a cui siamo abituati oggi, ma per quei tempi già era un buon risultato avere dei piccoli filmati, poi quando vogliamo, vedete, possiamo rivedere i filmati, quindi basta premere verso il basso, questa è una ripresa che ho fatto prima al pc, ve la faccio rivedere e si può rivedere già nel suo schermo.